L'inquadramento dei riders da sempre vive su una dicotomia tra subordinazione e autonomia. Cercheremo di dare delle risposte a questa dicotomia cercando di approfondire soprattutto gli ultimi orientamenti giurisprudenziali che ci sono stati in materia e anche analizzando le disposizioni amministrative e le circolari che il Ministero del Lavoro prima e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro dopo hanno fornito sulla materia. Questa nuova categoria di lavoratori negli ultimi tempi ha avuto un enorme sviluppo, quindi è necessario che su di essa si facciano approfondimenti, studi e si diano delle risposte, si cerchi di dare qualche certezza. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto recentemente anche in maniera molto pesante sanzionando aziende che si sono comportate in maniera irregolare. Nel webinar del mese di ottobre cercheremo di dare risposte a questi argomenti.